Ciao a tutti, mi chiamo Marco Amadei, sono di Faenza, sono un parrucchiere e anche un truccatore. Il mio salone si chiama Visioner e collaboro con dieci professionisti. Insieme ci siamo occupati del look di Renor Mazzotti per il lancio del suo CD e del video musicale. È stata un'esperienza unica anche grazie ad Renor Mazzotti, lei stessa, che è una persona speciale. Speciali erano anche le persone che hanno collaborato per questo progetto, soprattutto il regista Andrea, una persona eccezionale, il quale mi ha chiesto di creare per Renor una fan fatale con audacia, però che avesse grinta e determinazione. Infatti siamo riusciti a creare un look di Renor Mazzotti che era molto seducente, ma allo stesso tempo accattivante, ammagliante, insomma, è curioso. Renor Mazzotti è un po' diversa, vi consiglio di andare a cercare su internet, insomma, su YouTube e scoprire un'Eleonora un po' diversa, grintosa, ma piacevolissima. Il pezzo è straordinario, ve lo garantisco. Niente, per me è stata un'esperienza fantastica. Ringrazio ancora Eleonora, ringrazio ancora Andrea, il regista, ringrazio tutto lo staff e a presto, quindi. Ciao a tutti! Ringrazio ancora Eleonora, ringrazio tutto lo staff